Musica Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, questo è il primo appuntamento del 2024 e troviamo due argomenti, uno che fa un po' da tradunione dall'anno che abbiamo trascorso a quest'anno che stiamo per vivere insieme. Infatti il primo titolo è il bilancio di fine anno e le proposte del 2024, poi parleremo anche del progetto del giornale online con gli studenti, le studentesse e le scuole secondarie di secondo grado che si cimenteranno nella realizzazione di un giornale. Il primo argomento, come detto, è la richiesta che abbiamo fatto ai consiglieri regionali della Toscana, uno per gruppo, per tracciare un bilancio di lavoro in aula e nelle commissioni di questo 2023, soprattutto quali siano le proposte e le priorità per il 2024. Ricordiamo che la prima seduta d'aula si trarà il 16 e il 17 gennaio prossimi. Quello che si sta concludendo è stato un anno complesso, è vero, è stato il primo anno in cui siamo usciti completamente dalla pandemia, ma purtroppo è stato un anno segnato a livello internazionale tra drammatici conflitti che hanno provocato e stanno provocando migliaia di morti, di cui tanti, purtroppo, bambine e bambini. Per noi Toscani è stato l'anno di un'alluvione terribile che ha provocato morti, che ha provocato danni, danni consistenti ad imprese e famiglie. Ma in queste difficoltà ancora una volta abbiamo avuto prova dello straordinario cuore delle Toscane e dei Toscani e allora il mio pensiero oggi va a tutte le volontarie e volontari, a tutte le donne e gli uomini che quotidianamente con le loro professioni si mettono al servizio degli altri. E questo lo spirito è il valore più forte della nostra regione e la mia speranza, il mio auspicio è che possiamo contribuire tutti insieme a renderlo ancora più forte per essere ogni giorno capaci di dare risposte concrete a chi soffre e vive condizioni di difficoltà. Permettetemi un ultimo pensiero particolare, voglio rivolgerlo ai nostri giovani, auguro loro di essere protagonisti della ripartenza della nostra regione e di contribuire a costruire una Toscana migliore anche grazie all'opportunità che arrivano dall'Europa. Buon 2024 a tutte le Toscane e a tutti i Toscani. Quando arriviamo in questo periodo a ridosso delle feste di Natale, il nuovo anno è come dire usuale fare gli auguri, io vorrei augurare a tutti i Toscani e a tutte le Toscane Salute e Lavoro. Ecco che noi stiamo facendo scelte per cercare di tutelare la sanità pubblica e stiamo cercando di fare delle scelte con questo bilancio che prevedono tanti investimenti per quanto riguarda la difesa del suolo, che contiene risorse per quanto riguarda le famiglie e i territori che hanno subito l'alluvione, che aumenta le risorse per i giovani, che aumenta le risorse per il sociale. Quindi un bilancio che vuol tutelare le fasce più deboli, un bilancio che vuol tutelare le imprese senza l'aumento dell'IRAP e anche con importanti risorse per quanto riguarda le politiche attive. Questo è quello che noi auspichiamo per i Toscani e coerentemente cerchiamo di operare attraverso risorse che si trovano nel bilancio e attraverso le politiche che metteremo in essere attraverso l'azione del Consiglio ma soprattutto del Presidente e della Giunta. Un anno importante, il 2024, che mi auguro possa portare innanzitutto la pace laddove ci sono dei conflitti così vicino a noi, non soltanto nella striscia di Gaza ma anche in Ucraina, senza dimenticare tutte le situazioni che sono presenti nel nostro Paese di difficoltà, bisogna stare vicini alle persone che maggiormente hanno sofferto di questa condizione economica difficile e bisogna che la Toscana giochi un ruolo protagonista verso l'Europa. Sarà un anno importante dove tanti cittadini nel mondo andranno a votare, più di 4 miliardi di persone saranno chiamate a votare e mi auguro che sia un anno dove a livello globale, a livello europeo ci possa essere una distensione del clima sociale che si è determinato e mi auguro che la Toscana ne sia protagonista. Nel nostro ruolo dovremo aiutare i cittadini toscani ad uscire da una condizione di difficoltà per quelli che hanno subito l'alluvione e supportare famiglie, imprese e soprattutto i giovani verso un anno che possa essere di ripartenza effettiva dopo tante difficoltà vissute in questi anni precedenti. Ci proponiamo un'attenzione particolare e saremo anche noi lì a controllare l'operato della Giunta regionale e anche del Governo in questo per quanto riguarda l'alluvione, sperando di poter dare un conforto a tutte le aziende e tutti i cittadini che ancora oggi vivono in delle condizioni disagiate dovuto all'alluvione che il 2 novembre ha colpito la regione toscana. Poi andando più sulla parte politica sicuramente abbiamo due importanti appuntamenti, il primo è quello delle amministrative di giugno in cui abbiamo quasi 190 comuni al voto e sicuramente uno degli obiettivi più importanti è quello di aumentare i capoluoghi in Toscana, quindi la vittoria di Firenze, la vittoria di Livorno e la vittoria di Prato perché questo progetto è un progetto di centrodestra unito, un progetto serio e soprattutto è un progetto che ci fa sognare e sperare in funzione di Toscana 2025 che è il grande obiettivo che come centrodestra ci siamo dati nei prossimi due anni, tutto parte dalle amministrative. Il secondo obiettivo è quello sicuramente delle europee, un obiettivo grande, un sogno grande però noi ci teniamo a dire che siamo pronti come centrodestra anche al governo dell'Europa perché stiamo dimostrando come si cambia volto anche a una nazione. E poi l'obiettivo personale diciamo del gruppo Lega a livello regionale è sicuramente quello di una riforma sanitaria perché vedete l'80% del bilancio regionale verte sul sistema sanitario e siamo stanchi di ricevere quotidianamente segnalazioni da cittadini che devono attendere 7, 8 mesi, 10 mesi, un anno per poter fare una visita, due anni per poter fare un intervento oppure doversi recare al privato e magari togliere quei soldi nel salvadanaio delle famiglie della Toscana per poter fare una visita, un controllo perché la salute deve essere al centro della politica, della buona amministrazione. Quindi quello che più di tutti ci auguriamo è che da gennaio si riparta con una discussione seria sul sistema sanitario regionale e che finalmente si evitino sprechi, si evitino assunzioni degli amici e degli amici ma si faccia tutto in funzione per un bene più grande, un bene collettivo che è quello di garantire in primis la salute ai cittadini toscani. Io mi auguro, ma non ho dubbi di questo perché per fortuna i segnali stanno arrivando sia l'anno del lavoro e dei giovani. L'anno in cui il Paese riparte appieno con l'occupazione sarebbe un sogno, un sogno di tutti, pensare che i nostri ragazzi, i nostri neodiplomati, i nostri neolaureati possano tornare a sognare una carriera dignitosa e florida nel proprio Paese senza dover pensare a dove andare oltre i confini per affermarsi e per avere una carriera dignitosa. L'aver nello scorso anno, l'aver iniziato a cancellare quei dispositivi assistenzialisti che a niente servivano se non a sperperare soldi e essere tornati a investire in politiche attive per il lavoro ci fa ben sperare. Speriamo che l'anno prossimo sia l'anno in cui veramente l'orgoglio italiano che già piano piano sta tornando fuori dai confini inizia a ritornare anche ai nostri ragazzi e ai nostri ragazzi, in chi si avvicina al mondo del lavoro, a chi inizia a lavorare, a chi intraprende un'iniziativa imprenditoriale, a chi riscopre il mondo dell'agricoltura che è un mondo che sembrava abbandonato e che oggi sta rinascendo in Italia. Quindi l'augurio di un 2024 è un augurio per un 2024 di ripresa, di lavoro e all'insegna dei giovani. Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ossia il nostro lavoro di controllo, a volte anche di proposta, ma devo dire la verità, non con molto successo. Io ho fatto una proposta di legge sulla regolamentazione delle sostanze d'origine e qui mi fa piacere l'occasione che lei mi offre perché questa proposta di legge è stata fatta con dei tecnici chimici bravissimi, non certo campata in aria, giace nei cassetti della Commissione Ambiente per la prima discussione da quasi un anno, se non di più, e se ne sono perse le tracce. Quindi da parte nostra ci sono state anche delle proposte e io preannuncio già che presenterò una nuova proposta per la ripubblicizzazione dell'acqua, sarà la terza, questa volta voglio vedere di eliminare qualsiasi appiglio per la maggioranza per poterla anche solo portare in discussione perché le mie proposte di legge non sono mai arrivate in aula e questo la dice lunga sulla clima di collaborazione e di reciproco rispetto fra forze politiche, questo la dice lunga. Per quanto riguarda l'attività di controllo noi non facciamo altro da quattro anni quindi sicuramente continueremo a farlo al nostro meglio. E parliamo di Generazione News, Generazione News è il giornale online degli studenti e delle studentesse della Toscana, la voce di chi ha la voglia, la forza, la capacità di leggere il mondo vivendo da protagonisti consapevoli e perché no, sporcandosi le mani anche nelle vicende di ogni giorno per portare un contributo che fa davvero la differenza. L'idea di questo giornale è partita quindi dai giovani e dal Parlamento regionale degli studenti per essere poi recepita dal Consiglio regionale della Toscana, l'ufficio scolastico regionale, l'ordine e la fondazione dei giornalisti, le scuole con capofila, l'Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze. Abbiamo sempre detto di dare più voce a chi ha meno voce, attraverso Generazione News i giovani, i nostri ragazzi, nelle nostre scuole possono raccontare il loro punto di vista sul tempo che viviamo. È uno spazio libero, è uno spazio aperto, è uno spazio di confronto, è un luogo in cui provare a raccontare il presente e il futuro, è un modo per dare autonomia e per noi, per poter ascoltare, per poterci confrontare. Promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi, il promuovere le competenze del saper si orientare in un mondo dell'informazione molto ampio e in cui non è semplice poi saper individuare ciò che è giusto da ciò che non è giusto, ciò che è vero da ciò che non è vero e quello di poter, visto che l'idea è nata all'interno delle consulte degli studenti, quello di dare gambe ad un'idea importante, potente, come quello di fare un giornale fatto dagli studenti rivolto agli studenti, nato fuori dalla scuola ma a vantaggio e con ricadute importanti dentro le istituzioni scolastiche. Il rischio è che si chiudano completamente in un'energia entropica e quindi esplodono all'interno, quindi è veramente fondamentale che gli vengano dati gli strumenti per farsi ascoltare, per elaborare quello che loro stanno vivendo che è tantissimo e oltre a questo è anche uno strumento secondo me per rapportarsi con il mondo, per interpretarlo, per spiegarlo, per imparare a comunicare, quindi poi nel futuro per imparare a vivere, a lavorare, a fare qualunque cosa. Il giornalismo è una forma di, per loro è quasi uno strumento per fare politica, cioè per entrare in comunicazione fra di loro, per convolgersi, per coinvogliare le energie, quindi l'hanno scelto loro e quindi questo ci deve far riflettere. Ma innanzitutto è fondamentale avvicinare i ragazzi alla lettura, indipendentemente dal mondo del giornalismo, è chiaro che quando poi appassioni i ragazzi alla lettura il passo successivo è coinvolgerli nella nostra professione, professione che in questo periodo, sapete, è bombardata da mille informazioni e credo che questo sia un progetto utilissimo per i ragazzi per drenare tutte queste informazioni che arrivano e elaborarle con le loro idee. È chiaro che noi come ordine dei giornalisti, la nostra funzione è quella di assistere, di essere vicini alle loro esigenze e accompagnarli in questo percorso. Tra l'altro siamo molto sensibili all'informazione per i giovani e soprattutto con i giovani. È da un paio di anni che come ordine facciamo un corso contro le fake news, proprio rivolte a tutte le scuole ed è un corso che ha avuto molto successo, siamo riusciti anche a espanderlo alle varie province della Toscana e ci sta dando risposte molto importanti e questo progetto va nel solco della informazione proprio rivolta ai ragazzi. È chiaro che è fondamentale che in questo caso le istituzioni si prendano il compito in qualche modo di emancipare i ragazzi anche sotto un aspetto di vita politica, perché oggi purtroppo vediamo molto spesso i ragazzi lasciati fuori dalla partecipazione politica consapevole e questo giornale penso che sia un deciso passo in avanti verso una scuola invece che sia caratterizzata dall'inclusione, quella vera e dalla partecipazione alla vita politica che può derivare solo da un'emancipazione vera ed effettiva. E questo era anche l'ultimo argomento che abbiamo trattato nella prima trasmissione del 2024, tra sette giorni saremo ancora insieme. Vi ricordo però per tutte le informazioni c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Grazie per essere stati con noi, la prossima settimana con Dentro il Consiglio. Grazie a tutti.